Ciao a tutti, benvenuti alla quarta puntata di ArredaClick, siamo tornati insieme io e Carlo. E tornate Eleonora. E quest'oggi abbiamo deciso di parlarvi di come arredare un soggiorno. E per arredare il soggiorno abbiamo scelto di illustrarvi delle pareti attrezzate, con i vari benefici che possono apportare all'arredo casa, giusto? Esatto. Abbiamo scelto una in particolare di pareti attrezzate, una nuova collezione. Sì. Che abbiamo su ArredaClick, che è la B-Free. Sì. Partiamo da questa foto. Sì, con la B-Free FS77. Abbiamo scelto questa per prima perché ha questi elementi a giorno libreria, che sono verde esmeraldo. Tu sai che è verde. E io che sono appassionata di colori so che il verde esmeraldo è il colore dell'anno, scelto da Pantone, da Mr. Pantone. Non a caso, tra l'altro, perché è tema comune, poi tra l'altro, alla parete attrezzate da B-Free, ma in generale al design e non solo, colore verde, colore naturale e si sa quanto è importante il fattore ecologico in questo periodo nel design, sia dal punto di vista produttivo, quindi fare in modo che l'impatto sull'ambiente della produzione industriale sia quanto ridotto il più possibile, e sia poi invece nelle soluzioni estetiche e di texture, quindi prediligere colori, per esempio, come il verde, che ricordano comunque la natura, come in questo caso. Esatto. Qui abbiamo però una composizione un po' potremmo dire di un open space gigante, esatto, un open space dei nostri sogni. Da catalogo. Però vediamo una potenzialità di queste pareti attrezzate, cioè abbiamo delle componenti differenti, a giorno, a ribalta, eccetera, che possono essere disposte sulla parete, sia, come in questo modo, conquistando gli spazi in larghezza ed in altezza, sia, come vediamo nella prossima composizione, in una maniera magari un po' più reale, ovvero ricompattando il tutto. Fondamentalmente qua abbiamo quasi praticamente lo stesso numero di elementi dell'altra composizione, però compattati, creando una fantasia totalmente differente. Abbiamo anche un gioco di colori differente. E abbiamo tutto quello che ci serve. Abbiamo tutto quello che ci serve. Libreria, elementi contenitivi, giusto. Abbiamo il nostro mobile per la TV. Tra l'altro, infatti, per progettarsi una parete attrezzata, la cosa migliore è proprio quella di mettersi con un foglio di carta, con le misure della nostra parete in larghezza e in altezza, ma in scala magari 1 a 20, e praticamente ti disegni la tua parete anche a tentativi, e tutto chiaramente varia a seconda magari se c'è una porta, oppure dove vuoi piazzare la TV, se verso destra, se verso sinistra, anche a seconda di dove hai la presa, l'attacco, insomma. Quindi questo è il metodo migliore. E quindi si otterranno un sacco di risultati differenti. Fantastico il color Maldive. È bello, Maldive, poi tra l'altro, tanto per tornare in tema naturale, chi non vorrebbe andare alle Maldive adesso. Solo il nome è un programma. Qui, sempre a proposito di natura, abbiamo l'introduzione di questa texture, di questa nuova texture effetto legno. Effetto legno, bellissimo. Diciamo che texture effetto legno ci sono in giro da un sacco di tempo, da sempre. Però sono tornate in voga. Sono tornate in voga e quindi le aziende cercano sempre di introdurne di nuove. Vediamo un sacco di piante. E tra l'altro, se posso fare un appunto di design, abbiamo l'Egg Chair, favolosa, disegnata da Arne Jacobsen, che mi chiedo come si pronunci. Jacobsen, probabilmente Jacobsen. Arne Jacobsen. Passiamo a un'altra parete attrezzata. Stavolta cambiamo un po' stile, perché siamo stati sulle pareti attrezzate sospese, quindi tutto attaccato al muro. C'è anche, eventualmente, la base, la base centrale, quella in questo caso che fa anche la porta TV, a terra, con questi piedini, tra l'altro, molto molto leggeri, che ricordano quasi dei ramoscelli, degli alberi, sempre a richiamare la natura. Magari era voluto dal progettista, non lo so, però appoggia la composizione per terra, ma la rende leggera. Sembra quasi invece che sia attaccata a parete. Sembra sospesa, infatti. Io dico che preferisco le sospese perché a livello di pulizia... Passi sotto lo scoppettino, chi ha la donna. Invece a me non mi interessa, a me piace lo per terra. Però con questo ramoscello, un po' così. Tu solo TV e PlayStation. Esatto, però il mio lato femminile lo faccio vedere fuori con il richiamo al ramoscello, che è un po' così, un po' che ci piace. E qua abbiamo tre colori, tra l'altro. Finitura a legno. Finitura a legno, quindi una texture materica. Poi abbiamo i due laccati, uno grigio, un grigio molto chiaro, e poi il giallo. Il giallo. Un bel contrasto, soprattutto col tappito nero. Ok. Passiamo adesso a questa composizione. Questo è particolare perché adesso abbiamo visto tutti gli elementi a giorno, elementi a ribalta, più o meno grandi. E invece le pareti B-Free hanno anche questa particolarità, questa libreria, sempre componibile perché sono due moduli, uno più corto e l'altro più lungo, che ha anche la particolarità poi di poter essere illuminata con delle barre LED. Una foto favolosa. Esatto, una foto favolosa, anche qui un po' molto da catalogo, molto patinata. Sì. Però la libreria qua la fa un po' da padrone perché rispetto, abbiamo visto, la parete attrezzata può essere anche molto leggera. Sì. Quindi uno può decidere se, diciamo, crearsi una parete minimale oppure no. Ecco perché usare un bel fogliettino di carta, mettesse lì moglie e marito, la moglie vorrà sicuramente la parete più leggera. La moglie pulisce sotto la parete sospetta. Il marito ne vuole un sacco di pezzi, tanto non deve spolverarli lui, quindi vuole un sacco di libreria, eccetera. Allora, vediamo invece adesso l'ultima parte attrezzata. Sì, abbiamo scelto una composizione un po' in legno chiaro, a differenza delle altre atmosfere più nordica quasi. A livello strutturale, dimmi qualcosa. Allora, qua abbiamo, vabbè, sempre a terra, come mi piace a me, che sono tutto playstation e tv, però non calcio, non mi piace il calcio, però fa nulla. Questo ti fa onore. Era per le mie fan, mi fa onore da me. Qua un'altra cosa, allora, parete attrezzata abbiamo detto multicolore, multi-texture, ma anche multifunzione. Abbiamo visto prima la libreria, abbiamo visto già i bagni a giorno, eccetera, adesso vediamo anche lo scrittoio, c'è il mensolone scrittoio. Quindi una parete che divide, esatto, divide proprio la stanza, anzi la parete stessa viene divisa in più funzioni. Quindi la tv con davanti magari la leg chair diventa il salottino e la parte invece per mettersi il computer portatile. Poi in alto ci mettete le bottiglie, le libri, i giochi della playstation. Abbiamo individuato queste sedie che ci sono piaciute, anche perché magari per ravvivare questo legno chiaro per gli amanti del colore come me, abbiamo questo contrasto con le sedie Taira, io le sceglierei proprio così. Proprio in questi quattro colori per creare, direi che la soluzione migliore per giocare tutto carnevalesco, siamo a febbraio, quindi con Eleonora è tutta un'altra cosa a fare, non mi sarebbe mai venuto in mente. Che spalla. Che spalla. Allora, beh, detto questo, questa probabilmente sarà una delle tante puntate in cui vi diamo qualche tips sul soggiorno, in questo caso abbiamo scelto l'AbbyFree, però la prossima volta chi lo sa, tanto il catalogo di dare da click è abbastanza sconfinato. Continuate a seguirci perché magari vi facciamo anche dei disegni dal vivo, anzi Carlo vi fa qualche disegnino e vi spiega la scala. Dall'alto della scala 1 a 20, 20 centimetri o 20, chi lo sa che cosa, vi spiegherò io qualcosa. Grazie mille. Ogni settimana, ogni settimana. Seguiteci. Ciao. Ciao. Sì, comunque è Arreda Tips la puntata, hai detto benvenuti ad Arreda Click. Sì, vabbè Carlo, la gente lo sa. La gente lo sa, lo sa.